Correva l'anno 2007, 13 anni fa, quando facciamo la prima mostra piuttosto nutrita di un artista che abbiamo sempre seguito con grande ammirazione, con grande simpatia. Parlo di Christot e Jean Claude. Nella nostra sede di Acquiterme, allora nel 2007, facciamo questa mostra e appunto avevamo esposto quasi tutti i temi di questo grande artista. Questo grande artista che attraverso questo nome non ha nulla di provocatorio come può avere una grande cantante di successo, non faccio il nome sulla bocca di tutti, ma lui essendo bulgaro, di origine bulgara, è normale il nome Cristo, Yavacek. Lui che dal 35, anno di nascita, da ragazzo, studia prima Sofia, poi si trasferisce a Praga, infine fuggia da Vienna, Ginevra, a Parigi. A Parigi nel 58 conoscerà sua moglie, Jean Claude, e da lì nasceranno tutte le loro opere. Poi il trasferimento nel 64 insieme negli Stati Uniti a New York, a Manhattan. Ecco, qual è la caratteristica di questo grande artista considerato della Land Art? La Land Art sapete essere questo grande movimento che ormai anche in manuale di divulgazione di storia dell'arte integrano in un capitolo che comprende tutti quegli artisti che agiscono, fanno un'arte sulla terra. In realtà mi è capitato, e questo è divertente, di parlare di Land Art personalmente con protagonisti come appunto Christot, oppure con Richard Long, oppure con Emish Fulton, e a parlare, a sentire parlare di tutti questi artisti, a sentire parlare di Land Art si irritano, proprio si irritano veramente. Ma sapete, la storiografia ha bisogno di queste etichette, loro invece hanno bisogno di salvaguardare la propria individualità, la propria singolarità. Chiusa questa curiosa parentesi. Ecco, qual è la caratteristica fondamentale, più importante del percorso creativo di Cristo? Avevamo intitolato con i miei fratelli questa mostra del 2007, Rivelare, proprio perché secondo noi il primo aspetto più saliente, più importante della creatività di Cristo è proprio quello di, come sapete, impacchettare, che può essere enorme impacchettamente appunto che può essere il Reichstag di Berlino, che può essere il Pont Neuve, che è stato il Pont Neuve di Parigi, oppure di inserire degli elementi nel paesaggio, come il Running Fence, che è questa recensione che scorre lungo tantissimi chilometri nel paesaggio americano, oppure abbiamo visto grande successo sul lago di Zeo, i Floating Peers pochi anni fa, nel 2016, che sono questi molli galleggianti, oppure i Gates, le porte attraverso tutto il percorso di Central Park, questo avveniva nel 2005. Dunque, Cristo è quell'artista che ogni volta incide su un paesaggio diverso o impacchetta un monumento storico e rivelare il proprio indice dell'etimologia stessa, cioè in nascondere temporaneamente un monumento, appunto il Reichstag o il Ponte Neuve a Parigi, per poi farcelo vedere veramente, rivelare, una cosa che si vela e poi si disvela di nuovo. Anche gli altri elementi del paesaggio sono elementi, come per esempio il fasciare le isole a Miami, oppure di Umbrella, sugli Umbrella, in un altro grande paesaggio, proprio per farci vedere diversamente cose che magari non si vedono più per consuetudine. Per cui concludo dicendo che l'aspetto primario più importante del percorso di Cristo è da una parte della lendarte e dall'altra parola anche concettuale, perché è curioso considerare che la vera opera d'arte è la performance che dura circa due settimane, circa 14 giorni e ciò che rimane è la maquette, è il progetto, sono i disegni, sono i collage che possiamo vedere nelle grandi mostre e nelle grandi fire di tutto il mondo.